La Via della Bellezza è il progetto della Conferenza Episcopale Italiana nato in occasione del quinto convegno ecclesiale nazionale di Firenze nel novembre del 2015. Il portale raccoglie le esperienze, i materiali, le news che le nostre diocesi italiane fanno proprio per valorizzare il patrimonio culturale ecclesiastico del nostro territorio. Dunque è una raccolta, è un portale online attraverso il quale con un form si possono segnalare queste iniziative e condividere la propria storia, il proprio patrimonio anche attraverso appunto il mezzo web. È molto importante ricordare che Via della Bellezza si fonda sul rapporto tra arte e fede e dunque va al centro della storia dell'arte cristiana dall'antichità alla contemporaneità. La Chiesa ha sempre usato l'arte per dimostrare la meraviglia della creazione di Dio, questa è una frase di Papa Francesco. In questa direzione va la giornata dedicata appunto a Via della Bellezza ma all'arte per l'evangelizzazione, quindi con un obiettivo specifico che riguarda proprio la comunicazione dell'arte, la comunicazione dell'arte cristiana come strumento educativo alla fede. Questo è possibile attraverso il portale che raccoglie appunto le iniziative delle nostre diocesi italiane che ci dimostrano in qualche modo che c'è davvero bisogno di bellezza e c'è bisogno di valorizzarla e comunicarla.